Lettera aperta del gruppo consigliare PD al sindaco Nanni Campos. Fino a oggi abbiamo atteso una risposta da parte sua alle nostre proposte di collaborazione in questo straordinario momento emergenziale. Una risposta avrebbe potuto e può ancora concretizzarsi come sua apparizione che apra finalmente quel ponte di comunicazione con la città. Una città che non deve attendere inerme il corso degli eventi. Noi abbiamo provato ad assumere fino ad oggi quel ruolo di opposizione costruttiva rispettosa delle istituzioni ma soprattutto seria responsabile. L'emergenza in corso, le tragiche notizie che giungono oggi da ospedali e case di riposo per anziani, la tensione e paura che stanno aumentando fra i nostri concittadini ci impongono di rappresentarle ora il nostro fermo disappunto per il suo inspiegabile silenzio e ci costringe a rivolgere l'invito a dare evidenza alla città della sua presenza. Mai, come in questo momento, il compito di chi amministra e di chi fa politica è complicato e gravoso. Per questo è necessario trasmettere alla propria comunità la percezione di avere sul ponte di comando una guida capace di essere vicina alle diverse fragilità che si stanno pian piano manifestando tra noi e pronto a fare ciò che serve prima che alcune di esse diventino irrecuperabili. Providei a difendere e proteggere i suoi concittadini dal disastro comunicativo istituzionale della regione Sardegna in grado di pubblicizzare un numero verde che non funziona, di proclamare lo stato di emergenza prorogato fino al 31 luglio gettando nello sconcerto e nella confusione migliaia di sardi di scatenare l'ira dei giornalisti che si scagliano contro l'amministrazione regionale accusandola di mettere il bavaglio all'informazione capace di stoppare in aula 60 milioni di finanziamento straordinario poiché non esistono oggi i documenti necessari che individuano la destinazione vincolata dei fondi. Abbiamo letto parte del comunicato in ragione dei nostri ristretti spazi televisivi. Giuseppe Masala, Fabio Pinna, Giuseppe Mascia, Carla Fundoni sono i firmatari del gruppo del Partito Democratico di Sassari. Domani alle 10 nel cortile di Palazzo Ducale il sindaco Nanni Campos terrà una conferenza stampa riservata ai giornalisti.